Si allunga la giunta comunale a Bari guidata dal sindaco Vito Leccese. Nella giunta entra a far parte il professore Nicola Galasso, docente di diritto costituzionale all'Università del Salento, che assume l'incrego di assessore alla legalità antivavia, politiche abitative e patrimonio. Nelle motivare la nomina il sindaco del capoluogo Pugliesi ha spiegato che con l'aiuto della nuova ripartizione controlli legalità e trasparenza, il professor Galasso potrà supportare il lavoro dell'amministrazione comunale e offrire il proprio contributo, più che qualificato rispetto a una serie di iniziative politiche che abbiamo presentato nel programma che ci ha poi visti vincere. La nomina è avvenuta dopo un incontro con il Movimento 5 Stelle riservato, in cui Leccese aveva chiesto una nomina di alto profilo, non schierata da entrambe le parti. Grazie.